Allievi sempre aggiornati sulle ultime tendenze dell'estetica e del benessere, pronti per il mondo del lavoro, in un settore che continua a evolversi. Alla non edizione di Roma International Estetica, alla Fiera di Roma, allo stand della Fashion Look Academy, accademia accreditata dalla Regione Lazio dove si formano estetiste, acconciatori, esperti in ricostruzione unghie, tatuatori e molto altro, si ha una panoramica su tutte le novità del settore, come il massaggio con il fuoco, spiega Salvatore Calemma, fondatore della Fashion Look Academy. Questo qui è un massaggio con un cupping, un massaggio che noi definiamo un fast massage. Cosa significa? Abbiniamo la classicità di un massaggio relax ai benefici del calore del fuoco, del cupping. Quindi abbiamo sposato con i tempi moderni la necessità di avere un massaggio veloce, decontratturante, rilassante, che appunto ne gode dei benefici del calore del fuoco, vasodilatatore. È un settore assolutamente in continua evoluzione, tant'è vero un mestiere che non tramonta mai, anzi il 99% dei nostri allievi dopo tre anni lavora. Quindi si può dire che la formazione professionale adesso è alla base del lavoro, abbinato con gli stagio formativi. Grazie.